Il Benafro affronta in casa il Rutigliano nel campionato nazionale di calcio a 5. Al diciottesimo minuto è il Rutigliano che si porta in vantaggio con D'Aprile. Un bel gol angolato spiazza il portiere di Cichiello ed è l'1-0. Al settimo minuto dalla fine del primo tempo è Nardolillo che su assist di Chietà riporta al pari sull'1-1 il risultato. Ma Vavalle del Rutigliano riconduce prima del fisco dell'arbitro il risultato sul 2-2. Un secondo tempo veloce e estremamente valido dal punto di vista dello spettacolo. E' Russo a segnare il suo secondo gol a 30 secondi dalla ripresa ed è il 2-3. Rutigliano in calza prima con Rotondo ed è pareggio sul 3-3. Rotondo che sigla la doppietta al sedicesimo minuto 4-3 per gli ospiti. Ancora il Rutigliano allunga la distanza con Cianambolo sul 5-3. Ed è goleada con la tripletta di Rotondo e siamo a sereti a 3 per gli ospiti. Valletta non ci sta a perdere con un grande distacco e accorcia la distanza con un bel tiro che va a rete sul risultato di 6-4. A meno di due minuti dal termine porta il Rutigliano sul 7-4. Ed ecco che giunge il colpo di grazia siglato da Cianambolo. La partita si chiude sul risultato di 8 reti a 4 per la squadra ospita.